Ciao a tutti i magicoliani! Molti di voi continuano a chiedermi come avere più iscritti sul proprio canale, a parte che io non ne ho tanti e poi che mi zica ne so. Ci è me qui l'unica possibilità per avere più iscritti e farsi conoscere, essere divertenti, essere bravi, ma soprattutto spammare un casino. A parte gli scherzi, dovete essere bravi quasi professionisti in un genere di cose e da rifare video e caricarli a manetta finché trovate un pigna che vi dirà mi iscrivo. Complimenti avrete il vostro primo iscritto. Poi dovete continuare su quella strada fino ad arrivare a circa 100 iscritti e da lì dovrete cercare di spostarvi su piattaforme come Facebook per incrementare le vostre conoscenze. Alla prossima e non mangiatevi la lingua!